C'era anche il prefetto di Bergamo in strada per affiancare i ragazzi che hanno partecipato a On The Road, il format educativo che vede gruppi di giovani impegnati nei controlli stradali con la polizia locale nel centro cittadino. Si vengono a contatto con le istituzioni, a contatto con le forze di polizia, capiscono il loro lavoro che le istituzioni e le forze di polizia fanno su una strada, si mettono nei loro panni e mi pare che tutto questo sia facilmente compreso da loro. I ragazzi osservano e usano alcuni strumenti, i vigili controllano il traffico anche con i telelaser. La particolarità del progetto consiste nel fatto che i partecipanti vengono a contatto con le istituzioni e con le forze di polizia. Presenti all'incontro anche il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, l'assessore comunale Marcella Messina e il presidente dell'associazione On The Road Egidio Provenzi.